Ciao, mi chiamo Laura e vi racconterò un luogo splendido a cui tengo molto. Più o meno siamo a metà dello stivale, ma per sapere esattamente dove, ascoltate i miei podcast. Scaricate l'Apple Office e cercate il mio canale, si chiama Bacca Sassi. Io ci metto gli occhi, voi metteteci le orecchie. Buon viaggio!